Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Evelina Cristillan, membro del Consiglio della FIFA e Presidente del Museo Egizio di Torino, buonasera, benvenuto Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, buonasera Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e buonasera Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, editorialista di Repubblica. Avete sentito, il governo è pronto a controlli e sanzioni più severe per chi esce di casa senza una giustificazione e il governo ha anche deciso che da oggi chiunque rientri in Italia deve mettersi in auto quarantena, stare in isolamento. Poi vedremo anche nei dettagli che cosa questo significa, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Professor Pregliasco, ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha parlato di fiduciosa attenzione, ma i dati di oggi non sono per niente fiduciosi. Cosa ci dicono i dati di oggi? Ci dicono che purtroppo, come ci aspettavamo, la situazione è ancora in crescita. In effetti si tratta di casi che sono nati una settimana fa, dieci giorni fa, quindi quello che saranno sono gli effetti della stretta che l'Italia ha, che tutti noi abbiamo nella nostra modalità di vivere. Io credo si vedranno nella prossima settimana e probabilmente ancora nella settimana successiva. Mi pare che purtroppo anche nelle varie altre regioni dove la situazione non è così pesante come la Lombardia, l'Emilia, l'Emilia, il Piemonte, ci sia stato un incremento. Quindi davvero questo dato mi fa dire solo che dobbiamo ancora stringere i denti, ma essere fiduciosi perché l'azione stringente che è stata attuata è l'unica possibilità che ci permette di vedere la fine di questa crescita, anche se ormai è direi abbastanza certo che dovremo farci tenere compagnia da questo problema fino al mese di maggio, probabilmente giugno, ma io spero in un continuo trend di discesa. Mi pare che non salgano tantissimo, anche se la situazione lombarda è pesante, i casi in terapia intensiva, dove ho capito che sono arrivati proprio al limite della possibilità di assistenza. Progetto Pregliasco, il governo è pronto a controlli e sanzioni più severe per chi esce di casa senza averne un buon motivo e c'è chi dice che questa è una settimana cruciale. Perché è una settimana cruciale? Perché qui vedremo l'effetto della riduzione, come speriamo, come crediamo, davvero concreta del numero di casi, perché il tempo di incubazione di questo virus, ormai lo sappiamo, è di circa 5 giorni, una variabilità da 2 a 11 giorni e quindi è sicuramente determinante vedere in questa settimana se il trend comincia a rallentare in modo significativo. Credo che dovremo vedere un andamento non così preciso e non così immediato di riduzione, ma ritengo che nella prossima settimana, entro la prossima settimana, vedremo un calo, un calo continuativo. È una speranza, ma è anche una oggettiva, diciamo, possibilità proprio legata al fatto che anche altre situazioni, lo stessa UAN, ma anche altre epidemie, grazie a interventi così stringenti, non nell'immediato, ma sono riuscite a ridurre la diffusione. Marco Travaglio, anche oggi ci sono state tante denunce per violazioni alle misure restrittive. C'è una parte dell'Italia che rappresenta la maggioranza, che è responsabile, che rispetta le regole, poi c'è una minoranza che invece sembra essere totalmente irresponsabile. Ci vorrebbero delle sanzioni più dure, più severe? Marco, aspetta un attimo che riproviamo il collegamento con Skype, perché l'audio non è buono per niente. Passo allora direttamente a Massimo, Giannini Massimo. Francia e Spagna hanno schierato i militari nelle zone più a rischio per far rispettare le norme. Sarebbe utile anche in Italia? Come dicevamo ieri, gli altri paesi sono arrivati dopo di noi, beneficiando anche della nostra esperienza e dei nostri errori. Adesso ci hanno scavalcato quanto a rigore. Io penso che in relazione alla domanda che facevi a Marco Travaglio, è vero c'è una maggioranza molto ordinata che sta reagendo nel migliore dei modi, nel modo più responsabile a questa restrizione delle nostre libertà. Ma c'è una minoranza ostinata, purtroppo. Io ancora oggi vedevo e sentivo, soprattutto da Milano, immagini che mi ha mandato mio figlio, che sta lì chiuso in casa da una settimana, della metropolitana milanese, oggi pomeriggio, strapiena di gente. Siccome hanno ridotto le corse, le poche che ci sono sono letteralmente assediate di persone che sono attaccate l'una all'altra. Allora, c'è una componente che riguarda i nostri comportamenti personali, però forse c'è anche una componente di vieto che a questo punto forse è il governo che deve mettere in campo. Cioè ci sono una serie di attività che vanno chiuse. Oggi sono morti due impiegati delle poste. Nel momento in cui noi rinviamo gli adempimenti fiscali, contributivi, assicurativi, chiudiamo gli uffici postali, chiudiamo gli uffici, ci sono tanti uffici che possono chiudere, ancora esercizi commerciali che possono e devono chiudere. Io penso cioè che occorra, ovviamente come sempre, tutto il nostro senso di responsabilità, ma forse un ulteriore giro di vite da parte del governo non sarebbe male. E anche mettere in campo l'esercito, se serve, io credo che sarebbe opportuno a questo punto. Ecco Marco, sei di nuovo in collegamento. Dice Massimo Giannini che per far rispettare le restrizioni, se serve l'esercito, impieghiamo anche l'esercito. Sei d'accordo? Faccio un tentativo, l'esercito, sicuramente, può aiutare tutta la percezione del mondo, cioè il fatto di sapere e essere contro. Marco, non ci siamo, purtroppo non è giornata, mi scuso con le spettatrici e gli spettatori, ma insomma questo fa parte delle altre misure restrittive, per cui insomma i collegamenti via Skype saranno poi sempre più frequenti e non sempre la tecnologia ci assiste come dovrebbe. Vevelina Cristi-Len, lei dall'osservatorio di Torino, come valuta la risposta dei cittadini? Da voi c'è stato un esodo verso sud? Ma c'è stato un esodo, forse il primissimo giorno quando è stata annunciata la chiusura di tutta Italia e quindi in qualche modo insomma qui da noi c'è parecchia gente, studenti, lavoratori eccetera che hanno preferito tornare a casa, ma poi neanche così tanto. Io stamattina guardavo al telegiornale le immagini di Parigi con l'esodo biblico dalle stazioni di Parigi e dico che poi in fondo tutto il mondo è paese. No, guardi, qui a Torino io devo dire forse siamo sabaudi, ordinati, Marco Travaglio mi spiace che non riesce a parlare tanto bene, ma insomma mi può capire. Qui da noi si vede veramente poca gente in giro e chi lo fa, lo fa in modo ordinato, senza assembramenti, senza nulla di quello che viene proibito. Io sto parlando dal Museo Egizio perché noi comunque non possiamo buttare la chiave di una collezione da 50.000 pezzi, ma veniamo in due alla volta con estrema attenzione stando in stanze diverse e cercando di fare quello che ci viene detto. Se posso dire a Torino ecco appunto è abbastanza così, anzi è molto così. E meno male. Professor Pregliasco, da oggi tra l'altro chiunque rientri in Italia deve mettersi in isolamento, in auto quarantena. Ci spiega esattamente in che cosa consiste, cosa si deve fare? Si tratta di una quarantena fiduciaria, cioè del fatto che considerando una diffusione ormai piuttosto ampia e comincia a essere anche incontrollata negli altri stati, anche in Europa, ma non solo. Noi siamo 40 giorni in ritardo rispetto alla Cina, ma le altre nazioni ci seguono a ruota a distanza di 8, 10, 12 giorni. Quindi sicuramente l'idea è quella di evitare che qualche altra persona possa rinfocolare il focolaio ormai già abbastanza disperso e quindi si tratta di chiedere a queste persone, verranno segnalate, quindi dovranno questa quarantena fiduciaria documentarla attraverso telefonate che la struttura del territorio dell'ASL dovrà fare per 14 giorni, in modo tale che non ci sia questo rischio di ulteriore inserimento di casi. È un fatto, a mio avviso, necessario proprio nell'ottica di un restringimento di quella che può essere la possibilità di avere contatti. Io ritengo che sia fondamentale questo, sia fondamentale anche rilanciare quello che è il rischio più grosso. Oltre la vicinanza anche le mani, le mani che sono un veicolo di possibile trasmissione e quindi senz'altro distanziamento sociale, igiene personale, con buon senso, senza pensare a delle fake news che stanno susseguendosi ed è incredibile anche questo riguardo a farmaci contro la pressione alta che possono far male ma non c'è nessuna dimostrazione, di antifebbrili che risulterebbe non siano opportuni perché peggiorano le cose, piuttosto che il virus rimanga nell'ambiente, sull'asfalto, sulla suola delle scarpe. Sono assurde fake news che aumentano il panico e rendono più difficile da parte del cittadino l'adesione a quelle che sono invece norme di assoluto buon senso, anche se stringenti rispetto al fatto di dover stare in casa sostanzialmente. Questo è l'elemento importante. Professor Pregliasco, è cominciato oggi ufficialmente un periodo di prova di questo farmaco contro l'artrite reumatoide che pare avere buoni esiti su chi è affetto dal coronavirus. conferma. Le chiedo questo e le chiedo anche del vaccino perché c'è un ok per fare dei test preclinici e c'è anche una ditta, c'è questa ditta italiana che si chiama Tachis e loro cominceranno a testare un vaccino sugli animali e Garattini ha detto che è possibile a questo punto che abbiamo un vaccino già a ottobre. Lei cosa pensa? Allora, i farmaci ormai su tutti i pazienti, anche quelli che abbiamo nel mio ospedale a Galeazzi di Milano, vengono trattati con questi farmaci cosiddetti per uso compassionevole o fuori indicazione e già quindi si stanno consolidando informazioni che ora verranno canalizzate attraverso una sperimentazione più strutturata e standardizzata e in particolare anche questo anticorpo monoclonale contro l'artrite reumatoide è molto interessante perché riduce quello che è il meccanismo di eccessiva risposta dell'organismo che poi causa queste polmoniti che sono ormai, le abbiamo conosciute, l'elemento di maggior rischio di questa patologia. Io credo che però per consolidare, strutturare diciamo la terapia farmacologica ci voglia ancora tempo però in ogni caso già ciò che c'è viene comunque provato. Sul vaccino i tempi secondo me saranno piuttosto lunghi è sperabile che già in ottobre possa esserci una sperimentazione su vasta scala per poter anche qui verificare innanzitutto la sicurezza, l'efficacia del vaccino ma ritengo che poi la disponibilità su grandi quantità necessiti anche un'industrializzazione che porterà ad avere quest'arma come arma definitiva non prima di un anno da oggi. Marco Travaglio, ti facciamo vedere via Skype però ti ascolteremo via telefono. Oggi è stato deciso il rinvio di un anno degli europei di calcio previsti per giugno e questo non era mai successo. Questo aiuterà a far capire a chi ancora non avesse capito quanto è seria la situazione? Sì, è uno di quei segnali che fanno capire anche alle fasce meno consapevoli e meno responsabili della popolazione che se viene meno anche un'istituzione come l'europeo di calcio vuol dire che la cosa è seria. Dopodiché io sono molto preoccupato quando vedo le scene degli affollamenti dentro le metropolitane o dentro gli autobus, un po' meno quando vedo qualcuno che corre per la strada o in un parco perché se è vero quello che stiamo raccontando e che ci viene detto dagli esperti ciò che è pericoloso è la vicinanza, non è il fatto che qualcuno esca non bisogna uscire in coppia, non bisogna stare vicini ad altri ma il fatto che il singolo vada anche un po' in giro quello credo che non vada disincentivato. È chiaro che più persone ci sono in giro e meno distanze ci sono ma anche su quello bisognerebbe essere chiari. Io sono terrorizzato quando vedo che ancora l'altro giorno si giocavano partite con stadi pieni o si festeggiava dopo oppure quando vedo che nelle nostre metro e nei nostri autobus ci sono persone appiccicate l'una all'altra perché allora a quel punto mi domando che succede cioè com'è possibile che per esempio a Milano non si sia ancora pensato se ci sono linee così affollate di raddoppiarle o triplicarle proprio per diradare la vicinanza delle persone. Certo, certo. Tra l'altro Marco ti tranquillizzo, l'audio è perfetto e l'immagine è anche quindi questo connubio, telefonino e Skype, perfetto. Evelina Cristillan, allora per tornare agli europei di calcio pare che alcuni paesi abbiano fatto una certa resistenza sul rinvio chi è che non ha ancora capito che la situazione è davvero seria e che ripercussioni avrà questa decisione sul mondo del calcio che è anche un mondo che fa girare un sacco di soldi? E lei tra l'altro, voglio ricordare, dottoressa Cristillan, voglio ricordare che lei tra l'altro ha partecipato oggi a questa riunione in cui è stato deciso il rinvio. Sì, sì. Sì, sì, eravamo tutti in teleconferenza collegati con la sede del quartier generale della UEFA quindi a Nihon che è praticamente attaccato a Ginevra. No, devo dire che oggi la riunione è stata divisa in due parti, è un po' tecnica questa cosa, la dico perché c'erano tutti gli stakeholder del mondo del calcio quindi nella prima parte i rappresentanti del club, delle leghe, dei giocatori nella seconda parte i 55 presidenti delle federazioni delle varie nazioni 55 appunto che fanno parte della UEFA e noi del comitato esecutivo Tutto quello che è stato deciso è stato deciso assolutamente all'unanimità ma è ovvio che se si arriva ad un consiglio così difficile tra l'altro da organizzare con la teleconferenza, con paesi lontani e così via le decisioni siano state prese prima e non è stato evidentemente facile mettere tutti d'accordo il presidente Ceferin ha fatto un ottimo lavoro e oggi tutto quello che è passato cioè prima di tutto lo spostamento di un anno, di un anno esatto dell'europeo dal 12 giugno di quest'anno partito inaugurale a Roma all'11 giugno dell'anno prossimo partito inaugurale sempre a Roma e gli stessi 12 stadi è uno sforzo economico enorme la UEFA ci rimetterà circa 300 milioni quello che è stato anche deciso è di cercare di portare a termine le coppe europee quindi sia la Champions League che l'Europa League la data finale possibile è quella del 27 di giugno per la Champions League e del 24 per l'Europa League questo vuol dire che si sono fatte sette ipotesi a partire dalla ripresa del gioco il 14 di aprile per finire al 13 di giugno ovvio più ci si avvicina alla scadenza del 27 giugno ma quella del 14 di aprile è stata messa anche per ottimismo però effettivamente se così fosse si perderebbe tutto sommato non molto tempo la decisione più urgente da prendere era proprio quella dell'europeo quella non era rinviabile e così è stato fatto sul resto si vedrà Cammin facendo se fanno fare tutte le partite e il campionato italiano di questa stagione riprenderà mai? il campionato italiano di questa stagione questo è un altro bel problema che ha cercato di sollevare in questa sede il segretario generale Brunelli ma naturalmente su questo ci saranno due task force due gruppi di lavoro che lavoreranno sulle singole situazioni perché il campionato italiano è stato quello fermato per primo e noi siamo ancora debitori per la chiusura regolare del campionato di 12 partite se è che più 13 per l'Inter, il Sassuolo, la Sampdoria insomma le quattro squadre che devono ancora recuperarne una quindi il calendario è veramente molto stretto abbiamo avuto la deroga di andare avanti anche oltre la scadenza del 27 di giugno bisognerà vedere come evolve la situazione però se posso dire la Cina che voi avete citato più volte come esempio e lo è da oggi ricomincia a giocare il proprio campionato per quanto a porte chiuse quindi se la tariffa è quella cinese si può pensare fra un paio di mesi o forse anche qualcosa di meno a porte chiuse magari come in Cina però di poter ricominciare a giocare questo sempre perché bisogna essere ottimisti dottoressa Cristi Lem, Massimo Giannini è vero che insomma il calcio è la terza industria italiana e quindi ha delle ripercussioni anche sulla nostra economia ma peraltro l'economia mondiale sta andando a cattafascio in questi giorni, in queste ore perché Trump ha detto stasera che bisogna fare di più di quello che ha fatto l'Italia noi non vogliamo diventare come l'Italia dice Trump a noi italiani che ci siamo mossi molto prima e mentre Johnson, il leader britannico loda la sanità italiana ma dice che serve economia bellica e Conte che oggi era in videoconferenza con i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea propone una specie di coronavirus bond giustamente chiede che ci sia un agire comune che ci siano decisioni condivise anche perché solo insieme si può cercare di sconfiggere il coronavirus sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico quindi secondo te che cosa andrebbe fatto rapidamente adesso a livello europeo? ma intanto bisognerebbe appunto fare quello che hanno cominciato a fare solo adesso cioè sedersi a un tavolo tutti i grandi del pianeta e cercare di negoziare insieme e concordare una strategia sui due fronti che sono tutte e due drammatici noi dobbiamo in questo momento coniugare l'emergenza sanitaria e l'emergenza finanziaria l'epidemia e l'economia vanno portati avanti assieme perché è chiaro che se l'economia si ferma del tutto in una situazione nella quale dobbiamo aspettarci crescita sotto zero non solo noi italiani ma in tutta Europa è già così già tutti gli stati hanno programmato crescita zero per quest'anno è chiaro che la ricostruzione sarà molto molto complessa è giusto che a livello europeo si cominci soprattutto a livello europeo poi anche a livello mondiale ma soprattutto a livello europeo si cominci a ragionare in termini di superamento di tutto il quadro delle regole che sono state messe in campo fino adesso ha detto bene Macron stavolta anche se ripeto ci è arrivato tardi siamo in guerra in guerra serve un'economia di guerra continuare a far riferimento a istituti pur fondamentali in condizioni di normalità come il patto di stabilità il fiscal compact ma quello ormai sembra superato tutto questo ce lo andiamo alle spalle dobbiamo considerare che tutto questo non c'è più l'idea degli euro bond ricordiamolo perché questo inchioda l'Europa purtroppo alle sue responsabilità perché oggi se siamo così molto dipende dall'incapacità che abbiamo avuto di portare avanti i grandi progetti la grande utopia dei padri fondatori gli euro bond erano un'idea di Jacques Delors del 1994 in 30 anni non siamo stati capaci di costruire uno strumento che è fondamentale per condividere non soltanto il debito ma il destino economico e sociale di un popolo che vale 500, 600, 700 milioni di persone adesso questo va fatto subito e insieme a questo ovviamente il contributo delle banche centrali è essenziale la banca centrale europea purtroppo non ha ancora i poteri della Federal Reserve anche lì bisogna mettere da parte l'ortodossia tedesca e rassegnarsi all'idea che la Fed debba fare anche il cosiddetto helicopter money come fa la Federal Reserve la BCE, la banca centrale europea dovrebbe fare come la Fed anche perché questa sera la Casa Bianca ha annunciato, o pare insomma che voglia annunciare un piano da mille miliardi di dollari queste sono le cifre con cui dobbiamo fare i conti non i 120 miliardi annunciati da Christine Lagarde che avevamo immaginato prima Marco Travaglio, dopo il decreto cura Italia che è stato varato ieri dal governo diciamo che sembra esserci una tregua tra opposizione e maggioranza quanto può reggere? Ma io credo che fino a quando avremo i bollettini di guerra con i 250, i 300, i 350 accaduti al giorno nessuno sarà così irresponsabile da aprire polemiche che la gente proprio non vuole sentire parlare io credo che in questo momento chiunque lo faccia è destinato all'estinzione tanto più nel momento in cui il governo è riuscito a fare in 3-4 giorni quello che di solito si fa in 6 mesi cioè una manovra finanziaria tra l'altro di un importo paragonabile a quello della manovra di fine anno quindi io credo che la tregua durerà ancora un po' io spero che dopo si ricominci ovviamente a fare quello che è giusto fare nelle democrazie cioè che l'opposizione controlli se veramente quello che fa il governo e lo critichi tutte le volte che lo deve criticare e che il governo va davanti per la sua strada senza cercare corresponsabilità al di fuori ma io spero anche che oltre a tutte le cose che avete detto sulle regole europee ci domandiamo anche se un paese come il nostro possa ritornare alla normalità pensando che quella di prima fosse normalità io non credo che sia normalità continuare a depauperare la sanità pubblica per privilegiare quella privata come si è fatto in questi anni perché noi purtroppo siamo molto concentrati in questo momento sul contagio che è rapidissimo e concomitante e sui morti ma dovremmo anche pensare che se avessimo qualche migliaio di posti in più di rianimazione e terapia intensiva mi domando per quale motivo la Germania che non è troppo più grossa di noi ha il quintuplo dei nostri posti di terapia intensiva e probabilmente affronteremo questa emergenza con un altro tipo di respiro e con un altro tipo di passo perché non avremo paura tutti i giorni di aver esaurito i posti a disposizione cominciando a trasferire i malati da un capo all'altro dell'Italia come stiamo facendo o arrivando addirittura alla scelta che non ho capito se sia già stata fatta o se sia stata solo ventilata di chi salvare tra uno che ha qualche anno in più e uno che ha qualche anno in meno ecco io spero che questo ci serva di lezione non tanto certo anche per aumentare le risorse alla sanità perché sono anni che non aumentano e questo equivale a tagliarle ma soprattutto a distribuirle meglio io renderei obbligatoria la lettura della sentenza Formigoni nella quale al di là del caso personale si racconta come 200 milioni di soldi nostri siano stati presi dalle casse della regione Lombardia per darli a due istituti privati per carità efficientissimi e nobilissimi ma a casa mia il privato fa una clinica privata e se la paga con i suoi soldi non con i nostri soldi altrimenti non è un privato ecco Marco non verrebbe neanche depauperata la sanità pubblica chissà che magari anche nel nostro paese ci sia una sanzione sociale dell'evasore e per l'evasore fiscale chissà se vedremo mai questo momento chiamare alla normalità vuol dire anche non chiamare più furbetti quelli che vanno nel fisco ma chiamarli ladri e in questo caso anche assassini perché se non ci sono posti letto e qualcuno muore per quello lo dobbiamo anche a quelli che le tasse non le hanno pagate e i posti letto non hanno consentito di farli professore Apregliasco rapidissimo le volevo chiedere ma se noi non riusciamo a trovare la comunità scientifica internazionale un vaccino in tempi rapidi potremmo mai tornare tranquillamente a frequentare uno stadio di calcio un teatro un museo un cinema ci vorrà un po' di tempo questo è sicuro nell'ambito di questa fase quindi fino a maggio giugno presumibilmente avremo a che fare con una coda di questi casi sarà importante poi monitorare la situazione perché spesso le pandemie hanno avuto anche onde successive più piccole perché il virus cerca di arrivare a contagiare tutti quelli che può quindi in una prima fase è presumibile che si arrivi a un contagio di 30-40% della popolazione poi il virus io credo che in questo momento dovremo fare ulteriori studi perché una quota parte di persone in Italia si è comunque ammalata avendo forme più lievi e quindi la dimensione dell'epidemia in realtà è più alta lo sappiamo in tutte le epidemie i casi notificati sono sottostimati perché vedono praticamente soprattutto la parte dei casi più impegnativi ed è per questo che anche abbiamo un dato di mortalità però io credo che dovremo comunque gestire attraverso sistemi modulati e in modo più magari meno restrittivo per poter diluire questi casi e a quel punto riusciremo a gestirli in un'ottica appunto di organizzazione di riorganizzazione dei servizi come è stato fatto in Lombardia rapidamente proprio per modulare i bisogni fra pubblico e privato devo dire anche in Lombardia in un'ottica di collaborazione complessiva chiaro Evelina Cristillen una domanda rapidissima sul decreto cura Italia che è stato marato ieri dal governo siccome lei conosce bene anche i settori della cultura del turismo viene fatto abbastanza per questi settori ma in questo momento credo che si sia partiti bene parlo soprattutto dal museo egizio quindi figuriamoci sentivo attentamente quello che diceva il professor Pregliasco se e quando si potrà tornare 130 milioni comunque messi per la cultura di cui 80 sulla spesa corrente 50 in conto capitale mi sembrano già una buona cosa cercherei di fare qualcosa di più per i 600 euro una tantum delle partite IVA perché quello veramente è molto poco per attori cooperative guide turistiche e quant'altro 600 euro una tantum cercherei di buttare un occhio su quello e cercherei di allargare un po' la borsa Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché un grosso aiuto nella guerra al virus può venire dai big data guardate il punto di Pagliaro pochi scondi pubblicità L'efficienza della macchina tecnologica cinese ha avuto un ruolo non secondario nella lotta al coronavirus pensate per una società politicamente sotto sorveglianza le telecamere di sicurezza in funzione in tutto il paese oltre 200 milioni hanno garantito il monitoraggio degli eventuali spostamenti non autorizzati nelle zone rosse che le camere intelligenti hanno intercettato le persone che non indossavano una mascherina particolari software hanno consentito la scansione termica in tempo reale così da individuare eventuali casi di febbre l'utilizzo dei big data ha consentito di prevedere l'evoluzione del contagio e di fare terra bruciata intorno ad esso da tempo ricercatori di tutto il mondo si battono perché i big data cioè quell'infinita mole di informazioni oggi spesso utilizzata per vendere pubblicità o truccare le elezioni vengano messi a disposizione della scienza qualcosa si sta muovendo anche in Italia come rivela oggi Wired Facebook ha fornito un pacchetto di dati ovviamente anonimi che l'università di Pavia metterà a disposizione del governo per fronteggiare l'epidemia nei giorni scorsi anche le più grandi compagnie telefoniche italiane avevano offerto tramite la loro associazione di categoria Astel set di informazioni aggregate sugli spostamenti dei propri utenti ma anche senza l'aiuto dei cellulari ci sono molti altri strumenti per fare monitoraggio dai consumi energetici ai biglietti dei mezzi pubblici dai pedaggi alla lettura delle targhe un gruppo di lavoro nell'ambito del Ministero dell'Innovazione produrrà analisi del contagio basate su queste e altre informazioni messe a disposizione dalle reti e dalle piattaforme tecnologiche naturalmente i dati potranno essere usati solo in modo aggregato e garantendo il diritto alla privacy questo in Italia Allora siamo in chiusura saluto i miei ospiti li ringrazio grazie Evelina Cristillan grazie Marco Travaglio grazie a voi buonasera grazie professor Pregliasco grazie Massimo Giannini grazie a voi grazie aspettatrici e spettatori ma prima di salutarvi vi devo ancora dire una cosa molto importante perché c'è un'iniziativa della Sette insieme al Corriere della Sera la Gazzetta dello Sport si promuove una raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità è possibile effettuare versamenti con bonifico bancario vi consiglio per siccome il codice IBAN è lunghissimo se magari con il telefonino fotografate lo schermo così ce l'avete sotto mano se no ovviamente lo trovate anche su tutti i siti nostri della Sette delle nostre trasmissioni del Corriere della Sera della Gazzetta dello Sport ecco quindi date un aiuto contro il coronavirus se potete grazie grazie linea Giovanni Floris al suo di martedì ci sono molti ospiti tra cui anche il Ministro della Salute Speranza e noi ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie